La pensione non è un regalo ma è un sacrosanto diritto. Le Marche hanno voglia di cambiare, lo hanno urlato forte in una piazza Mazzini stracolma a Macerata. È il commento della Lega Marche dopo la visita di Matteo Salvini con il commissario Riccardo Augusto Marchetti e i parlamentari locali. Per l'occasione sono stati presentati i candidati leghisti al Consiglio regionale e il candidato sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. Ospite anche Francesco Acquaroli candidato presidente del centrodestra ad annunciare i 30 candidati delle 5 province è stato Marchetti. Nel telegiornale di ieri vi abbiamo mostrato un estratto della presentazione. Tra i 7 nomi scelti per la provincia di Pesero e Urbino rientrano due fanesi tra cui Mirko Carloni consigliere regionale, docente universitario e imprenditore già vice sindaco di Fano. Ma ieri è un bellissimo segnale, una grande emozione, la piazza di Macerata così piena di tante donne e uomini che vogliono davvero un forte cambiamento in questa regione. Quindi il miglior segnale per iniziare. Gli obiettivi della Lega, come ha detto ieri Salvini, sono quelli di liberare questa terra, di farla diventare più competitiva, di riportare questa economia dove merita, dove era in passato e soprattutto di dare servizi che mettano al centro gli interessi dei marchigiani e non quelli del partito che ha dominato questi anni. Quindi la sinistra ha portato questo territorio a impoverirsi e soprattutto a costringere tanti giovani ad andarsene in altre terre per cercare il loro futuro, per trovare un lavoro. Questo è il segnale più brutto che noi stiamo ricevendo in questo momento. Quindi l'obiettivo nostro è invertire questa tendenza e ridare dignità ai marchigiani, fare in modo che possano continuare a vivere in questa nostra bellissima regione, riuscire a realizzare i propri sogni, aprire la propria attività o trovare il proprio lavoro. Tra le problematiche prosegue Carloni, c'è quella sanitaria. Bisogna togliere burocrati, le asure e le arse che si sovrappongono e sono piene di funzionari amministrativi. È necessario per Carloni trovare risorse per assumere medici e infermieri, garantendo ai pazienti tutti i servizi. L'attenzione dovrà essere rivolta anche all'economia. La microimpresa, che è quella che distingue il nostro territorio, sta soffrendo in modo particolare per una mancanza del credito, nell'indifferenza generale e soprattutto per una mancanza di norme che evitino la burocrazia. La maggior parte del nostro sistema artigianale, che è legato alle costruzioni, alle strutturazioni, vive un momento drammatico perché la burocrazia che questa regione sta mettendo in piedi, in tutte le sue forme, è davvero folle e per fare qualunque iniziativa privata oggi ti fanno passare la voglia. In corsa per la regione anche Luca Serfilippi, dipendente profiglas, ex assessore e consigliere d'opposizione a Fano, è stato mister preferenze alle ultime amministrative. È emozionato ma al tempo stesso determinato perché il centrodestra ha una possibilità unica di vincere e di dare un'alternativa vera e concreta al governo della nostra regione. I temi sono sempre gli stessi ma importanti e dalle parole bisogna passare ai fatti perché abbiamo visto tante promesse disattese sia per quanto riguarda la costa sia per quanto riguarda l'entroterra. Dalla sanità, dove serve una sanità pubblica vicino al cittadino e concreta, quindi per ridurre la mobilità passiva fuori dalla nostra regione e ridurre anche i tempi di attesa perché le liste di attesa sono imbarazzanti. Dall'altro anche per quanto riguarda il lavoro perché tanti giovani ma anche tante persone, tante famiglie al di là del Covid erano e saranno ancora di più senza lavoro, quindi serve un programma vero di rilancio vicino alle aziende del nostro territorio. E dall'altro le infrastrutture. Io ho 33 anni ma da una vita sento parlare di Fano Grosseto, Fano Rubino, qui dalle parole bisogna passare ai fatti. Servono persone competenti, dico anche io giovani perché è ora di svecchiare un pochettino la politica e preparate quindi che dalle parole passino ai fatti.